Allora allestiamo una fioriera per il Natale. Inseriamo una mattonella. Allora andiamo a inserire nella nostra spugna dei rami di pino cascanti innevati. Per riempire di più la nostra fioriera la decoriamo con un altro tipo di pino cadente molto più innevato. Per renderlo più luminoso applichiamo delle sfere di vetro con delle foglie.